Dottor Di Munno, arrestato un grosso spacciatore di eroina del centro storico di Padova? Assolutamente sì, è uno dei soggetti, forse il principale protagonista dello spaccio di sostanze stupevescenti pesanti, perché parliamo di eroina, di ottima qualità per le vie del centro storico, per i vicoli. Si spostava con gran velocità a bordo della sua bicicletta, è stato anche non semplice riuscire a bloccarlo. Ci siamo riusciti nella tarda serata di Ene in Via Dante, allora quando il Tunisino è stato sottoposto ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire i primi 25 grammi di eroina che portava con sé nel giubbotto, già suddivisi in dosi, e ad una successiva perquisizione domiciliare sono sbucati altri 253 grammi che erano stati nascosti nel controsoffitto. Un duro colpo per lo spaccio di eroina a Padova? Riteniamo assolutamente di sì, perché il quantitativo dimostra la gran mole di lavoro sporco che riusciva a fare qui in centro storico.